Sabato 23 novembre dalle 9.30 alle 13 a Palazzo Badini saranno presentati alla città di Pordenone i progettisti incaricati della redazione del nuovo piano regolatore generale. L'appuntamento è stato convocato per illustrare l'agenda dei lavori dei prossimi mesi e tutti i cittadini sono invitati a partecipare. L'assessore comunale all'urbanistica Martina Toffolo. Sarà l'occasione per trovarci a Palazzo Badini. Lì conosceremo i professionisti che hanno vinto il bando di gara per l'assegnazione del nuovo piano regolatore di Pordenone e sarà anche l'occasione per vedere insieme i contenuti del testo unico che è il risultato di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme cittadini con i laboratori, urbani, amministrazione, uffici e altri enti. Sarà importante esserci per continuare il percorso di redazione del piano regolatore che deve essere uno strumento condiviso dalla città. Grazie a tutti.